Ciao a tutti, mi chiamo Marco Garofalo e sono un fotografo documentarista. Sono l'autore del libro Energy Portraits, che mi ha permesso di viaggiare per diversi anni nel cosiddetto Global South, cioè il sud del mondo, dove ancora oggi vive quasi un miliardo di persone che non ha accesso all'energia, o ha un limitato accesso a quella che noi oggi chiamiamo energia moderna, cioè quell'energia che ci permette di vivere una vita connessa e al passo coi tempi. La prima volta che ho sentito la mancanza di energia moderna è stato in Tanzania, sul Monte Chilimangiaro, dove ero ospitato da alcuni membri della tribù dei Masai per documentare come vivono questi pastori seminomadi, che anche se lontani dalla vita moderna a cui noi siamo abituati, hanno in realtà delle esigenze specifiche che richiedono l'accesso all'energia, come la comunicazione a grande distanza, gli affari, l'organizzazione dei matrimoni, o banalmente consultare il meteo per vedere dove ha piovuto e portarci gli animali. Allora, essendo io un fotografo digitale e quindi ad alto impatto energetico, tutte le sere dalla mia capanna dovevo decidere che cosa caricare, se il computer o le batterie della macchina fotografica o il telefono, oppure decidere se cenare alla luce di una lampadina che doveva servire anche a tenere lontani gli animali selvatici, tipo i leoni, perché una casa illuminata è una casa sicura. Questi viaggi mi hanno permesso di capire il mio valore dell'energia e di quanto elettricità, gas, luce, riscaldamento siano servizi che non sono proprio così scontati per tutti i popoli del mondo, popoli però che hanno le stesse identiche esigenze. Per esempio, i vostri coetanei del Kilimanjaro hanno la stessa vostra voglia di guardare un film o di fare un video su TikTok, però manca la cosa che alimenta questi servizi. Indovinate un po'? Esatto. E adesso vi rivolgo un po' di domande. Quante volte vi siete trovati senza energia e in difficoltà? Avete mai riflettuto su quale vostre azioni durante la giornata hanno bisogno di energia? Come potreste fare le stesse cose senza energia? Avete mai assistito ad uno spreco eccessivo di energia? Riuscireste a risparmiare energia e mantenere il vostro standard di vita? Ora la domanda più difficile. Riuscireste a rispondere a queste domande con delle fotografie? Ecco il concorso a cui potrete partecipare. Producete delle fotografie che rappresentino la vostra idea di energia, oppure situazioni di risparmio o di spreco energetico. Insomma, dateci dentro. Per farlo dovrete utilizzare solamente un pochino della vostra energia. fotografia. Non dimenticate di scrivere una bella didascalia a corredo delle vostre fotografie. Un consiglio? Scrivete ciò che non si vede. Il contesto, le vostre emozioni o ciò che avete imparato. E il risultato non potrà che darci una bella carica. Grazie a tutti.